...e tu gli avessi spiegato così in teoria che cos'è l'alfabeto mica facile spiegarli e gli dici che con l'alfabeto 20 segni su pro giù può scrivere qualsiasi cosa e gli dici beh ma nel caso vuoi scrivere una lettera alla mamma come fai? e tu dici usi l'alfabeto e però nel caso tu debba fare un resoconto commerciale come fai? usi l'alfabeto e se devi raccontare a sapere usi l'alfabeto? e no mica facile quello che c'è nel sito è l'alfabeto dell'attenzione e se uno impara ad utilizzarlo come fa con l'attenzione è quello che vuole la lettera a fare per scrivere come fa con l'attenzione è quello che vuole la lettera a fare per scrivere